ciao ragazzi come va allora oggi torno sull'argomento tecnica che mi sono state fatte delle critiche per modo di dire su tutte le ultime lezioni che riguardavano l'improvvisazione e diciamo l'armonia applicata con tria di arpeggio eccetera eccetera ho un po' tralasciato la tecnica che invece a me piace molto in realtà come come tipo di lezioni però come sapete cerco tutto quello che dico e che propongo di unire sempre anche gli argomenti prettamente tecnici di unirli in qualche modo allo studio della musica in generale quindi anche oggi vado a rispondere a uno dei commenti che sto ricevendo nel mio nella sezione video lezioni del mio sito qui che vi invito ancora una volta a scriverci tutto quello che volete critiche richieste eccetera eccetera e visto che a me piace tantissimo parlare di tutti gli argomenti vi invito anche a partecipare alla discussione del gruppo che gestisco su facebook che vi metto il link qui sotto che è basso elettrico e dintorni qualcosa del genere il titolo perché si parlava di fare come l'anno scorso che ne ho fatte due un'altra diretta dove poter diciamo partecipare un po' tutti quindi chi vuol prendere la parola a differenza dell'anno scorso che parlavo solo io si potrebbe organizzare qualcosa del genere chi mi aiuta a organizzare tutto è il benvenuto detto questo oggi rispondo all'ore che tra credo che capito chi sei che mi ha scritto tra le tra le tue lezioni di tecnica ho apprezzato in particolare quella dove sono i patterns patterns in terzine sulla pentatonica l'ho trovata molto interessante ed utile per diverse cose coordinazione mano destra e sinistra timing conoscenza della tastiera e molto altro se andrebbe dimostrarci qualcosa di simile allora credo si riferisca anzi penso di aver capito che si riferisca a una delle mie primissime lezioni in cui mostravo questo esercizio non l'ho ripassato quindi non so come vera comunque era una cosa del genere qualcosa di simile probabilmente era più più lungo comunque si trattava di appunto come dice l'ore lorenzo sembra essere anche l'ore dana c'è scritto l'ore comunque l'ore parte sulla pentatonica quindi avevo preso la pentatonica di solda e facevo questa cosa qui che era insomma andatela per rivedere a questo link qui oggi invece voglio mostrarvi un altro esercizio che è uno dei miei preferiti in assoluto cioè questo tipo di esercizi sono tra i miei preferiti perché appunto si unisce tantissime cose coordinazione ma anche ci costringono a usare la mente per capire che anche una semplice triade si può sonare in tantissimi modi un arpeggio si può fare con dei voicing assurdi che magari non ci pensiamo ma ad esempio un re maggiore suonato così è molto diverso dallo stesso re maggiore identico suonato per esempio così proprio in merito a ciò oggi voglio mostrarvi questo esercizio si tratta di armonizzare la scala maggiore rimaniamo il re sapete che io odio il do quindi andiamo il re oggi vi metto due diesis solo in chiave e vediamo innanzitutto di armonizzare a triadi la scala di re maggiore quindi avrò re maggiore sul primo grado questo è l'accordo questo è l'arpeggio ovviamente nella parte bassa del nostro strumento suonano male gli accordi però per capire mi minore sul secondo grado mi minore sul terzo grado poi abbiamo il sol maggiore sul quarto grado la maggiore sul quinto si minore sul sesto do diesis diminuito sul settimo e re maggiore di nuovo sull'ottavo quindi queste sono tutte le triadi costruite in forma diciamo regolare quindi tonica terza quinta sulla scala di re maggiore ci sono anche i rivolti e i voicing io tengo sempre a distinguere le cose perché i rivolti prendiamo un re maggiore i rivolti di re maggiore della triadi di re maggiore quindi così così e lo stato mi viene il nome ora regolare diciamo quindi tonica terza quinta se io metto la terza al basso quindi il fa diesis avrò questo fa diesis la re primo rivolto se metto il la al basso avrò questo secondo rivolto ma se io faccio questa cosa qui ad esempio questa che rivolto è messo fa diesis re la in ordine di altezza non è nessun rivolto questo è un voicing proprio prendendo quindi le possibilità che ci danno i voicing che a me piacciono tantissimo quindi mi danno delle sonorità nuove siamo sedetto il re mi cambia molto rispetto ai soliti accordi ho molte più sfumature soprattutto se vado a mischiare vari voicing con rivolti eccetera eccetera andiamo all'esercizio di oggi allora mettiamo la quinta al basso di tutti gli accordi si formano sulla scala di re maggiore quindi la quinta al basso ma non la tonica poi subito dopo ma mettiamo quinta decima chiamiamola terza insomma quinta terza ottava quindi non è un rivolto ma è il voicing quindi partiamo dal re quindi metto la quinta al basso che è la fa poi metto la terza che è fa diesis e la tonica l'ottava che è D quindi ho questo secondo grado uguale quindi mi minore viene questo poi avrò il fa diesis minore so maggiore la maggiore si minore do diesis diminuito quindi la quinta bemol del basso il sol e re maggiore quindi di nuovo questo esercizio che ora vi faccio vedere come lo eseguo io mi riallaccio al discorso iniziale innanzitutto ci fa lavorare sullo stretching della mano perché se vedete anche questa cosa qui quinto tasto del mi quarto tasto del re e settimo tasto del sol richiede una bella ora io ho fatto l'esercizio del re proviamolo un attimo in do ancora peggio terzo tasto secondo tasto quinto tasto quindi ci vuole una bella allargatura quindi si lavora innanzitutto su questo la coordinazione perché l'esercizio è in terzine con una miriade salti di corda che sarà questo la mano destra con una nuova tecnica cioè nuova diversa dal normale pizzicato perché io lo eseguo si può fare anche col pizzicato normale però mi torna meglio soprattutto in velocità ad usare indice medio per le corde di re e di sol e re scusate e il pollice per la corda di mi quindi questo quindi anche questa è una nuova la coordinazione ovviamente la velocità perché si può partire lenti ma arrivare dove vogliamo dove riusciamo e soprattutto dover pensare alle note e quindi alle triadi in un modo che non siamo abituati a fare perché di regola siamo abituati a suonarle come dicevo prima o tonica terza quinta o terza quinta tonica ottava o quinta ottava decima rivolti quindi pensare in questo modo qui ci 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 espande ancora di più le nostre conoscenze delle triadi quindi andiamo a vedere l'esercizio finalmente dopo venti minuti di premessa allora io parto da re è tutto in terzine ok quindi ta 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 oppure più lentamente ta 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 Quindi una terzina su ogni movimento, quattro terzine per misura, ma questo lo sapete meglio di me Quindi parto dal settimo tasto della corda di Sol, faccio quindi Re, Fa diesis sul quarto tasto e La sul quinto tasto del Mi Mi sposto sul Si perché è la quinta di Mi minore Faccio settimo, quinto, nono Poi mi sposto su Fa diesis Faccio Fa diesis, La e Do diesis Ecco vado su Re, faccio Re, Si, Sol La, Do diesis Mi, Fa diesis, quindi è uno ascendente, uno discendente, uno ascendente, uno discendente, Fa diesis Re, Si, vero? Si Questo ancora ci richiede una bella bella allargatura perché qui ho il Do diesis al canto diciamo Il Mi, quindi diciottesimo, quattordicesimo, quindicesimo tasto Quindi Do diesis Mi, Sol E chiudo con di nuovo il Re con la quinta a basso, quindi La, Fa diesis Re Poi torno indietro, quindi Una volta arrivato qui Riparto da stessa Dallo stesso accordo E riparto con una discendente Una ascendente Una discendente E via dicendo Questo esercizio vi straconsiglio Vi straconsiglio Di eseguirlo Con il metronomo Quindi anche Si lavora anche sul timing Quindi terzine devono essere perfette Ta 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 Non come ho fatto io All'inizio del video L'ho fatto senza metronomo E non sarà mai a tempo Ho fatto così Col cuore Diciamo Di impeto No, metronomo Ta 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 Napoli, Napoli Quello che cantatevi La parola che preferite E le tonalità, ragazzi Le tonalità Oggi io ho proposto Re Perché mi piaceva così Ma non cambia nulla Se ad esempio lo vado a fare Che ne so In Si Quindi partirò da qui Qui è ancora più difficile Perché Più mi avvicino All'inizio Della tastiera E più La difficoltà Aumenta Perché i tasti Sono più larghi Vedete È molto Faticoso Eccetera Eccetera Allora Oggi non voglio andare Troppo lungo Quindi Mi fermo qui Spero vi sia piaciuto Questo esercizio Che comunque Si può anche Fare In mille attimo Non in terzine Oppure Tutti Ascendenti Tutti discendenti Inventate Inventate Create Prendete Solo spunti Da quello Che vi do io Per fare Cose vostre Personalizzate Anzi se poi Le proponete Condividete video Vi viene un cuore Grande così Mi fermo qui oggi Voglio essere breve So che non ci sarò riuscito Critiche Commenti Dirette Tutto Commentate Scrivetemi Vi metto tutti i link Scaricate il pdf Come sempre E ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti